Benvenuti amici, io sono Salpimpos, oggi andiamo a fare l'estrazione per quanto riguarda le 500 gemme di Suspects. Avevo fatto il video un paio di giorni fa, quindi avevo detto che partecipando al concorso, semplicemente scrivendo un commento, potete vincere 500 gemme su Suspects. Ebbene, oggi andiamo a vedere chi vince ragazzi. Utilizziamo questo servizio, quindi Comment Picker, che praticamente si occupa di estrarre a caso tra i commenti di uno specifico video di YouTube, appunto un commento casuale. Oggi ne estrarremo ben 10, quindi un totale di 5000 gemme. Ogni vincitore avrà le sue 500 gemme. Iniziamo subito, direi non perdiamo tempo, ma andiamo a incollare il nostro link al video, quindi quello in cui avete commentato in tantissimi, devo dire. Mi aspettavo tutti questi commenti. Attiviamo il filtro per gli utenti duplicati, quindi per chi vuole fare il furbetto. Ecco, per tanto più volte sappiate che vi vale comunque sempre un commento. Quindi attiviamo il filtro, vediamo quanti commenti. Attenzione, 300, 400, 500, mamma mia! 469 commenti, togliendo i duplicati, arriviamo a 596. Quindi quanti duplicati ci sono? Allora, 469 commenti, ragazzi, sono tantissimi. Mai avuti nella storia del mio canale 469 commenti in un singolo video? Quindi ripeto, estrarremo 10 vincitori, ovviamente il servizio ne prende uno alla volta, quindi lo faremo uno alla volta. Ogni volta che estrariamo un vincitore lo scriveremo qua, nella lista. Ad ognuno dei vincitori, ripeto, commenterò direttamente il loro commento sullo scorso video, richiedendo appunto l'ID del gioco, come spiegato appunto nel precedente video. Quante volte ho detto video in questo video? Non lo so, però ripetiamo video. Quindi mi risponderete a vostra volta con l'ID del gioco. Io invierò la lista dei vincitori agli sviluppatori di Saspi e loro penseranno ad accreditarvi le 500 gemme. Ok, ci siamo e via che ci siamo. Pronti ragazzi? 3, 2, 1. Andiamo a vedere che è il primo vincitore. Via! Vediamo, mamma mia, 469 commenti, eh? Primo vincitore, Fablololo. Comment grande, grazie, grazie mille, grazie mille. Allora, se il primo vincitore è Fablololo, quindi ti incollo come... Aspetta, prima lo devo prendere qua. Ti incollo come primo vincitore, mi raccomando, ti commenterò il tuo commento chiedendoti appunto l'ID del gioco. Non dimenticare di rispondermi con l'ID del gioco, ovviamente. Va bene, il primo ce l'abbiamo, grande così. Andiamo al prossimo, forziamo. E via, e via che andiamo al secondo. E via che andiamo al secondo Gaetano Rayano. Commento bellissimo, grazie. Non so se è bellissimo il video oppure è bellissimo il video, però va benissimo qua, va benissimo qua. Ok, andiamo a segnarci anche Gaetano Rayano. Complimenti, ovviamente. Anche tu riceverai il mio commento richiedendoti l'ID del gioco. Andiamo al terzo, pick another winner, e via, e via al terzo vincitore. Lisa Neri, ciao, speravo portassi i Suspects. Eh, hai sparato bene perché ovviamente l'ho portato. Non ancora il gioco, effettivamente, perché problemi di server, eccetera, eccetera. Lisa Neri, terza vincitrice, ottimo così. Mi raccomando, mandami l'ID del gioco. E andiamo al quarto vincitore, ragazzi. Siete pronti? Siete pronti? Andiamo spediti come una freccia, e via. 3, 2, 1, Filo. Io vorrei, ma non penso proprio, ci spero già. Eh, Filo, hai vinto. Eh, pensavi, pensaci invece perché hai vinto. E quindi, grande così, grande così. Mi raccomando, inviami anche tu l'ID del gioco, rispondendo direttamente al tuo stesso commento. Va bene, già ne abbiamo quattro, ragazzi. Spero proprio speditissimi. Andiamo al prossimo, andiamo al prossimo. E via, e via. Ovviamente se esce già Alessandro Proietti. Commento, ciao. Benissimo. Breve e conciso. Mi piace, mi piace. Allora, andiamo a scrivere Alessandro Proietti. Dirà, bravissimo, bravissimo, congratulazioni. E quinto vincitore, Alessandro Proietti. Forza, mi raccomando, anche tu non dimenticare di inviarmi il tuo ID del gioco. Andiamo al prossimo. E via. Forza, forza, forza. Sperate, ragazzi. Lorenzo, spero di vincere. Hai sperato bene, Lorenzo. Hai sperato proprio bene. Congratulazioni. Eh, ok. E anche il sesto ce l'abbiamo. Eccolo qua, in colla. A posto. Anche tu, mi raccomando, non dimenticare di inviarmi l'ID del gioco. Andiamo al prossimo. Veloci spediti. Veloci spediti perché voglio dar stepai d'orario. Ciao, spero che vinca. Eh, ma sperate veramente tutti. Ci avete preso. Ci avete preso. Eh, ok. Quindi abbiamo anche il settimo vincitore, ragazzi. Stepai d'orario, mi raccomando, non dimenticare di inviarmi il codice ID. Sempre rispondendo al tuo stesso commento. È importante, ragazzi. Dovete rispondere al vostro stesso commento. Così io capisco che effettivamente siete voli. Vi do l'email e magari qualcuno risponde all'email spacciandosi per uno che ha vinto. Magari non è quello che ha vinto. Quindi rispondete direttamente al vostro stesso commento. Così so che siete voi. Allora, andiamo al prossimo. Andiamo all'ottavo. E via, e via, e via che andiamo all'ottavo. King Heroes. Perché non posso permettermi quasi nulla? Eh, hai vinto 500 gemme. Figurati se sono nulla. Hai visto che te li puoi per me. King Heroes. Congratulazioni. Mi raccomando, inviammi l'ID del gioco. Ma lo dico sempre. Incolla. E King Heroes è l'ottavo vincitore. Andiamo al nono. E via. E via. Quanto ho detto video? E via. In questo video però. E Yaro Yaro. Salvo TBB. Grazie mille. Grazie mille. Anche io mi voglio via. Yaro Yaro. Se è il nono vincitore. Ok. Manca l'ultimo ragazzi. Manca il decimo. Chi sarà? Chi sarà? Chi sarà? E lo scopriamo subito. E via. E via. E via il video. Via il video. A posto. Tank Dark 647. Io ho installato oggi il gioco. Ho trovato la tigre. Comunque spero di essere 310. E 610. E 610. Tank Dark. E 610. 310. Congratulazioni. Veramente. Molto fortunati. Questi 10 ragazzi. Sono fortunatissimi. Allora. Andiamoci a salvare. Il nostro documentino qua. Fatto. 10 vincitori estratti. Magari in futuro. Potremmo richiedere altre gem. Non lo so. Se il video. Se la serie. Comunque va abbastanza bene. Potrei richiedere altre gem. Agli sviluppatori. Voi come sempre. Dovete supportare la serie. Quando la porto. Ovviamente. Supportate. Tutte le serie. Supportate. Lasciando un bel like. Così magari possiamo richiedere. Qualcosa agli sviluppatori. Chi sa. Quindi ripeto. Questi sono i 10 vincitori. Io risponderò. Ai vostri commenti. Richiedendo appunto. L'ID del gioco. Rispondete sempre. Nel vostro stesso commento. Scrivendomi appunto. I vostri id del gioco. Così. Io faccio la lista. La invia agli sviluppatori. Di Suspect. Se loro vi caricheranno. Le 500 gemme. Va bene ragazzi. Detto questo. Non ho più nulla da dire. Mi raccomando. Lasciate sempre un bel like. Iscrivete al caso. Se non siete iscritti. Attivate la campanella. E per oggi è tutto. Al prossimo video. Oggi torniamo su Crash on the Run. Allora. L'altra volta abbiamo sconfitto. Dingo dal gelo. E qui abbiamo un po' di cosine da riscuotere. Visto. E qua facciamo uova. Come se fossimo una gallina. E oggi andremo ad affrontare. Il dottor gelo.